Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video, come state? Oggi pensavo di portare un video che ancora non ho mai portato e siccome mi piace molto il suono delle confezioni, dei cosmetici, così ho pensato di raccoglierne un po' e di provare a fare un po' di tapping, scratching, le sounds e cose così, insomma spero che vi piaccia. Ho raccolto più che altro prodotti cosmetici che ho terminato e un paio di confezioni di prodotti che invece ho appena cominciato. Allora il primo che mi capita sotto mano è questa confezione di acqua micellare all'Arcan, giardino dei sensi, ecco Pio, la marca questa qua, giardino dei sensi. L'acqua micellare non è il massimo per struccarsi, però io mi trucco veramente pochissimo e in modo molto leggero, quindi per quelle poche volte la utilizzo, insomma. L'acqua micellare non è il massimo per struccarsi, ma non è il massimo per struccarsi, ma non è il massimo per struccarsi. Ok, passo al prossimo prodotto e ho la luce liquida che è una lozione illuminante anti impurità. Con l'acido salicilico, che quindi ha un'azione esfoliante, è uno esfoliante chimico. Ho sugli zigomi un po' di puntini bianchi e mi aiuto insomma con l'acido salicilico. Lo utilizzo un giorno sì o un giorno no, più o meno. È della Vera Lab, non so se conoscete, penso di sì però, è un brand, è il brand dell'estetista cinica. La cosa che mi piace è che si può utilizzare sempre, perché non richiede, a differenza di altri acidi, l'utilizzo della crema solare durante il giorno per proteggere appunto dal sole. Grazie. 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 Ho poi qui un levasmalto della Rimmel con cui mi trovo piuttosto bene. Ve lo faccio vedere, eccolo qui. è molto delicato non secca le unghie però allo stesso tempo agisce in maniera efficace e quindi mi ci trovo molto bene anche ha un odore gradevole per essere un levasmalto grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A me il tapping su vetro piace sempre tanto a voi. Grazie a tutti. Di questa mi piace molto il suono del tappo. È un trigger che vi avevo già portato diverso tempo fa sul canale ma che ho voluto riproporvi perché mi piace tanto. Ha un profumo buono. L'altra crema della Clineas di cui vi parlavo l'ho appena iniziata ed è crema idratante leggera, pelli normali o miste, succo di aloe vera e acqua marine. E questo come vi dicevo l'ho appena cominciata perché mi inizia a fare più fresco e quindi la pelle è un pochino più secca rispetto all'estate e quindi mi piace utilizzare una crema più corposa. Grazie a tutti. 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 Nel prossimo video.